Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che trasmette la trasmissione Magia, Stragonaria, Paganesimo, come tutti i giovedì, oggi siamo un po' in ritardo ma comunque non ha nessuna importanza. La trasmissione di oggi verte sempre sulla terza parte dell'agguato del crocello dello Stragone nei quattro canti del mondo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, su elenco telefonicum trovate come Claudio Simeoni, Via delle Vignole 4 Marghera, ho appena cambiato casa, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do anche il numero di telefonino dell'Istituto che è 0338 39 10 727, ripeto, 0338 39 10 727. Io sono Claudio Simeoni e conduco la trasmissione Magia, Stragonaria, Paganesimo. Francesco, non c'è perché la dichiarazione dei redditi lo sta impegnando, e proprio in ricordo della dichiarazione dei redditi vi ricordo per favore non date i soldi al Vaticano. Se qualcuno di voi ha dei problemi di dare dei soldi perché l'uso che ne può fare il Vaticano, al di là della propaganda, vi consiglio di andare a comprarvi il gazzettino di oggi, il gazzettino di Padova, e di guardarvi l'ultima pagina, cioè la penultima pagina, diciamo, delle pagine del gazzettino di Padova, di tutta l'organizzazione che ha organizzato il Vaticano per salvare i macellai fascisti croati, in quanto i macellai fascisti croati agivano come gli ha insegnato il Gesù di Nazareth e il criminale del loro Dio. Per favore, prima di dare i soldi al Vaticano, pensate un attimino a cosa questi soldi possono essere usati, perché ricordatevi che se voi firmate per il Vaticano non è che voi non avete più la responsabilità morale e dell'uso dei soldi. Voi non potete dire, ma io non sapevo che venivano usati per massacrare le persone nel Burundi, non sapevo che i missionari distruggevano la cultura dell'Alto Volta, non sapevo che i missionari aiutavano questi a riempire di eroina nei ghetti americani, non sapevo cosa facevano i cattolici, non sapevo che il Vescovo stuprava bambini, non lo sapevo. Voi non lo potete permettere. Non potete dire, io non sapevo che la distruzione dell'Albania fosse dovuta al fatto di foraggiare la mafia e di portare ragazzini albanesi in Europa. Voi non potete dire, io non sapevo che il Dalai Lama, l'unica cosa che vuole è far concorrenza alle ragazzine nepalesi che vengono stuprate in giro. Voi non potete dire, io non sapevo. Quando voi firmate per dare i soldi a Chiesa Cattolica, ricordate che voi siete moralmente responsabili di tutto questo. Siete responsabili della distruzione del divenire umano. Voi vi assumete in prima persona la responsabilità di stuprare i ragazzini, la responsabilità di spacciare eroina, la responsabilità di distruggere le culture, la responsabilità di distruggere il divenire umano. Quando voi mettete quella firma, siete responsabili esattamente come voi Tila, esattamente come Cos, esattamente come Grohr. Cioè siete responsabili, come tutti loro, di stupro del divenire umano. Per cui pensateci bene. Non è una firma e poi io non ci penso più. Non è una cosa che, vabbè, l'ho fatto, o mai in fondo, o cosa vuole che sia una firma. No. Voi vi assumete la responsabilità morale di strage. Vi assumete la responsabilità morale della distruzione degli esseri umani. Voi vi assumete la responsabilità morale di stuprare i ragazzini nelle parrocchie. Voi vi assumete la responsabilità morale del fatto che le ragazzine vengono costrette a prostituirsi in Europa, i ragazzini costretti a prostituirsi in Europa. Voi vi assumete la responsabilità morale della distruzione e del divenire umano di ogni paese. Per cui quando voi mettete una firma per cui i soldi dargli al Vaticano, da quel momento voi siete moralmente responsabili di tutto questo orrore. Per favore. La mia tradizione è magia, stragoneria, paganesimo. La magia, stragoneria e paganesimo sono l'arte per costruire il futuro, per costruire se stessi e attraverso la costruzione di se stessi costruire il futuro. Per un pagano un'apprendista stregone, la vita è un'occasione per diventare eterni, è un'occasione per costruirsi, è un'occasione per prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Mentre invece nel cristianesimo non esiste responsabilità soggettiva. Le persone sono bestiame di un greggio che vanno dritto al macello e le persone vengono educate a fregarsene di tutto questo, a fregarsene dei problemi, a fuggire davanti alle contraddizioni della vita. Perché tanto c'è un padrone che agisce per loro, c'è un Dio, c'è qualcun altro. Bene, questo non esiste nel paganesimo e nella stragoneria. Ogni atto che facciamo ci può o costruire o distruggere. Possiamo costruire noi stessi o possiamo distruggere noi stessi. E mentre costruiamo noi stessi o distruggiamo noi stessi, costruiamo il sistema sociale nel quale viviamo o lo distruggiamo. Costruiamo libertà o schiavitù. E non esiste alternativa. Non esiste mediazione fra questo. Le cose non sono estremiste perché io le presento in maniera estremista. Ma le cose sono ai due estremi perché sono i due estremi. E le mediazioni conducono solo in un estremo. Non esiste una mediazione, un punto di mezzo, un forse bisogna magari essere più gentili, più delicati. Queste cose non esistono se non per costruire l'inganno, per costruire la truffa. E la truffa non viene mai costruita dal più debole mentre tenta di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. La truffa viene sempre costruita dal più forte nei confronti di chi è culturalmente, economicamente, fisicamente, intellettualmente più debole. In quel caso l'individuo costruisce la truffa. Ma chi costruisce conoscenza, chi dà l'assalto al cielo della consapevolezza, chi dice dovete prendere nelle vostre mani la responsabilità delle vostre cose. Fare quella firma è un atto infame solo per il fatto che viene fatta. Perché fare quella firma significa essere complici morali. E non lo dico io. Lo dice la Corte di Cassazione. Lo dice uno dei massimi tribunali della Repubblica. Per cui non lo sto dicendo. Cioè la partecipazione morale è all'interno del nostro sistema giuridico. Non è una cosa che mi invento io per fare scena. Il fatto stesso che viene nascosto questo concetto di partecipazione morale dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale, per poi guarda caso salta fuori come un coniglio dal cappello quando conviene. Questo è abbastanza direi anticostituzionale. Ma forse in questo caso è troppo. Direi che è abbastanza furbetta la cosa. Ecco, opportunista. Però la partecipazione morale è all'interno del nostro sistema giuridico, è all'interno del nostro sistema di pensiero. Con la partecipazione morale si rischia la galera o non si rischia la galera? Ci sono sempre dei giochini. Per cui attenzione a quello che facciamo. E vi dico, leggetevi l'ultima pagina delle pagine locali del gazzettino di Padova di oggi. E capirete a cosa servono i chili di oro, cosa servono le vie di fuga, perché bisognava proteggere gli assassini, i torturatori, della gente più debole, della gente che chiede giustizia. Ebbene, detto questo, ricordatevi sempre di non firmare mai per il Vaticano, mai dare soldi all'orrore e al terrore, mai. Vi ricordo che siamo riusciti ad aprire quella libreria tanto vituperata, tanto insultata dai cattolici, che ne avevano paura. Addirittura sembra che tutti i grossisti di libri erano già avvertiti e allarmati che qualcuno avrebbe aperto una libreria erotica pagana a Treviso. Una libreria che vuole essere una fonte vitale di informazione per sopravviventi, iconoclasti, scoppiati, anarcoidi, autoemancipati, investigatori, ricercatori, tutti coloro che si chiedono il perché delle cose e che magari le loro cose, partendo da ciò che sono, non riescono a trovarle in giro. Oppure anche chi è soltanto incuriosito da ciò che è strano, vecchio, antico, bizzarro, unico, assurdo, diabolico. Bene, là riuscirete a trovare quelle cose. Davis, che è un pagano che è dell'istituto, un metà di studio di politeisti e che avete anche qui sentito in televisione, riesce a farsi in quattro per riuscire a trovare i materiali più strani, i materiali che vengono fatti sparire. Per esempio, vi do un titolo, Giuliano L'Apostata, venne stampato dalle edizioni mediterranee, già scusate, da Melita Editori e da un'altra casa editrice. Bene, sembra che l'altra casa editrice si sia fatta finanziare per stampare questo libro culturale, dopodiché che si è fatta finanziare per stampare questo libro, l'ha fatto sparire dal catalogo perché di Giuliano L'Apostata non voleva diffondere niente. Bene, qualcosa siamo riusciti a recuperare grazie a Melita Editore. Ebbene, Davis riesce a procurare anche questo tipo di materiali. Come è riuscito a recuperare un libro che io ho cercato per decenni, dico veramente decenni, ed è Dio etere il diavolo di Reich. Bene, Dio etere il diavolo di Reich, Davis è riuscito a recuperarlo, che è l'unico libro di Reich che mi manca alla mia biblioteca. Penso che quello che ha pubblicato la Sugarco di avere tutto praticamente, da vent'anni almeno. Detto tutto questo, andiamo avanti con la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi è l'agguato del crogiolo d'Ostragone nei quattro canti del mondo. Una piccola nota tecnica, una piccola nota tecnica. Le linee qui in radio sono state, le linee telefoniche sono state modificate, per cui non c'è più la ricerca automatica dei due numeri 700-700, ma ci sono due numeri telefonici, 700-700, che è il numero precedente, e un altro numero che è 700-838, ripeto, 700-838. Per cui per telefonare in radio, se trovate occupato il 700-700, potete fare il 700-838. La ricerca automatica verrà messa a posto, perché le linee sono in trasformazione. Comunque vi ricordo che in radio gamma adesso avete due numeri, 700-700 e 700-838, per cui quando telefonate, quando sono l'ora di fare le telefonate, potete chiamare con tutti i numeri. a una cosa, per quanto riguarda la libreria che vi ho detto, la libreria è Sottomondo ed è in via Tolpada 11 a Treviso. Io ogni trasmissione parlerò di questa libreria, per che motivo? Perché questa libreria diventerà, adesso siamo in piena estate, per cui anche giovedì, venerdì e sabato hanno chiuso, perché sono andati a un convegno a recuperare materiali, per cui in estate ci saranno degli alti e bassi. Ricordo che la libreria è aperta dalle 16 alle 21 e 30, cioè dalle 16 al pomeriggio alle 21 e 30. C'è anche un orario di mattina, ma non me lo ricordo, per cui non vorrei dirvi una cosa sbagliata. Un po' alla volta diventerà un centro di incontro, cioè non solo un modo per vendere i libri, ma anche un centro di incontro fra pagani, fra alternativi, fra persone che vogliono costruire il pensiero, costruire il futuro, costruire la vita. Per cui questa libreria diventerà un punto di convegno, un punto di incontro fra tutte quelle persone che dicono al mondo, io esisto, io esisto, io voglio costruire la vita. Bene, quelle persone potranno trovare in quella libreria un modo per dire, beh, partiamo per riuscire a costruire qualcosa, per costruire noi stessi. E ricordo sempre che il paganesimo non è una verità che piega le persone, ma è un percorso di libertà, un percorso di libertà soggettiva, un percorso di libertà della percezione, un percorso di libertà nella descrizione del mondo, un percorso di libertà anche sociale, un percorso di libertà, proprio libertà del fare per costruire il potere di essere, che è la divinità libertà, al centro del paganesimo. Non è il concetto di libertà quello classico, quello storico. Per cui tutti quelli che dicano io esisto, io non sono bestiame di un greggio, io non sono in ginocchio davanti a un dio pazzo, bene, in quella libreria potranno trovare tutti quei materiali che gli possono servire e nello stesso tempo potranno incontrare anche persone folli come loro, cioè tutte le persone che costruiscono la libertà sono in realtà dei folli, cioè sono in realtà dei Don Quixote che danno l'assalto al mondo, danno l'assalto al vento, danno l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, bene, là potranno incontrare delle persone simili a loro. Per cui io ogni trasmissione parlerò sempre di questa libreria perché diventerà un centro, un centro di incontro, un centro di dibattito e un centro dove uno dice, boh, dove vado ad incontrare la gente che è simile a me, matta come me, che può pensarla come me, boh, là dentro trovo della gente simile, magari quella gente non mi piace, però è un momento per partire, per dar l'assalto al cielo. Bene, ricordandovi che gli altri due numeri, i numeri di radiogamma, del telefono di radiogamma per intervenire 700 700 e 70838, diamo il via alla terza parte, l'agguato del crogiore dello stregone nei quattro canti del mondo. Il crogiore dello stregone, vi ricordo ancora, anche a costo di essere pedante, che parte dal presupposto che la vita dell'essere umano è un atto attraverso il quale costruire se stesso, costruire il proprio corpo luminoso. La morte del corpo fisico è il momento in cui la coscienza, la consapevolezza passa dal corpo fisico al corpo luminoso, solo ed esclusivamente se la vita dell'essere della natura, essere umano nel nostro caso, ma ogni essere fisico della natura, questo corpo luminoso lo ha costruito attraverso le sue scelte, attraverso la sua lettura del mondo, attraverso il prendersi nelle proprie mani la responsabilità delle proprie cose. E questo perché? Perché nella concezione pagana non è un Dio che crea il mondo, cioè non è una volontà esterna che crea il mondo, ma è il mondo, è l'esistente che attraverso le sue trasformazioni va a costruire, va a proprio costruire attraverso la sedimentazione la coscienza universale. Queste due concezioni che sono assolutamente antagoniste ci dicono che la vita è un'occasione per costruire noi stessi. Bene, l'agguato del crogiore dello stragone è uno degli elementi del crogiore dello stragone. Il crogiore dello stragone è l'insieme di tutte quelle cose che ci permettono di costruire la vita. Naturalmente è il mio punto di vista, cioè nel senso che sono le cose che io pratico, che io ho visto, che io ho analizzato, che io ho vissuto, che mi hanno trasformato e che cerco di trasmettere agli altri. Perché? Perché gli altri possono prendere quello che gli serve e costruire un proprio cammino. Abbiamo fatto il crogiore dello stragone e abbiamo elencato tutti gli elementi del crogiore. Abbiamo dato una visione. Perché? Per sottrarre l'individuo all'assoggettamento. Quando un individuo arriva a praticare il crogiore dello stragone è un individuo che è stato educato in questo sistema sociale che dà un'educazione cattolica. Dà un'educazione partendo dal presupposto che l'individuo è creato da un dio pazzo. Bene, da questo assoggettamento è necessario sottrarre l'individuo. L'individuo deve tirarsi fuori. Siccome non esiste un ragionamento logico, non esiste una ragione, non esiste una logica per cui l'individuo si possa tirar fuori dalla sottomissione, in quanto la sottomissione è un atto di magia nera e l'imposizione all'individuo attraverso una violenza che è incominciata nel primo giorno che è uscito dalla vagina della madre, è necessaria un'operazione magica per tirarlo fuori dalla sottomissione. L'operazione magica è l'attuazione del crogiolo dello stregone. Dopodiché, abbiamo detto, l'individuo scopre che il mondo che lo circonda è uguale a se stesso, cioè le stesse tensioni, le stesse determinazioni, la stessa volontà e lo stesso bisogno di espansione che ha l'individuo stesso. Per cui l'individuo riconosce nel mondo che lo circonda dei uguali a lui stesso. Lui è un dio che si espande e si espande insieme a dei che lo circondano, che si espandano a loro volta. A quel punto l'individuo costruisce delle relazioni, cioè insieme a questi dei che lui incontra camminano insieme, fondendo la propria volontà, le proprie determinazioni, i propri bisogni e camminando assieme costruiscono delle relazioni e queste relazioni costruiscono i quattro canti del mondo. Cioè le relazioni sono i quattro canti del mondo. Lui abbiamo già spiegato in cosa consistono e non vale la pena di spiegarlo. Dopodiché c'è un altro aspetto che è il crogiolo del male, cioè mettiamo in luce quali sono le cose dal nostro punto di vista, quello che noi siamo riusciti a concepire, a capire, a approfondire, a vivere, a vedere, ad analizzare, quello che è il crogiolo del male, cioè la magia nera, come si articola la magia nera. La magia nera è l'atto del più forte sul più debole, sull'individuo che non si può difendere, l'individuo che non è in grado di discriminare, essenzialmente è l'atto del cattolico nei confronti del bambino. E questo è la magia nera e lo stiamo facendo, il crogiolo del male. Questo è il che partiamo adesso, è la terza parte dell'agguato del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo e la prossima volta parleremo di un elemento del crogiolo del male. Dunque, andiamo avanti con l'agguato nel crogiolo dello stregone, nei quattro canti del mondo, la terza parte, che è la tecnica dell'elencazione nella formazione dell'arte dell'agguato nei quattro canti del mondo all'interno della specie umana. Nel crogiolo dello stregone si è voluto non precisare l'arte dell'agguato proprio per lasciare ad ognuno la possibilità di pensare la propria. Nella specie umana si insegna a non praticare l'arte dell'agguato, si insegna ad aver fiducia, ad abbandonarsi ad una provvidenza divina. L'arriva nei nostri fa parte di un modo preciso attraverso il quale guardare la vita. Nell'arte dell'agguato noi siamo nel mondo e dobbiamo agguantare quanto ci serve. Nessuno ci ha insegnato da dove cominciare. Spesso i problemi della vita sono numerosi e premono per essere risolti. La prima operazione che si deve fare è sottrarsi all'insieme dei problemi, eliminarli o impedire loro di coinvolgerci, risolverli affrontandoli. Dal momento che la soluzione dei problemi all'interno della ragione sia attraverso gli elementi della ragione, il modo migliore è individuare esattamente la quantità dei problemi per poterli isolare dal nostro contesto psicologico. Quando il problema si isola dal contesto psicologico, diventa un oggetto che possiamo guardare senza farci coinvolgere. In pratica, quando lo stacchiamo da noi, il problema può essere visto in maniera diversa. Può essere descritto sottraendoci dalla necessità impostaci di guardare il mondo attraverso gli occhi del problema stesso. Ricordate, se un aspetto dell'arte dell'agguato è soggettivare l'oggettività, l'arte della magia nera è l'oggettivazione della soggettività, dove la soggettività immaginata assume un aspetto mostruoso e impedisce alla ragione di affrontarla. Un atto di magia eccezionale è quello di dividere la descrizione da noi stessi. Noi veniamo educati a caricare di significato totalizzante gli elementi della descrizione e questa totalizzazione si impone a noi stessi. Dobbiamo praticare l'arte dell'agguato per dividere noi stessi dalla nostra descrizione. Per far questo affrontiamo i problemi del quotidiano della ragione con gli elementi del quotidiano della ragione e manipoliamo il nostro divenire con gli elementi della magia e del nostro sentire. Per comodità in questo paragrafo, solo in questo paragrafo, usiamo due termini per definire il fare totalizzante dell'individuo e il fare della ragione. Sentire e descrivere. Il sentire lo riferiamo all'intero individuo di cui la ragione è una parte, mentre il descrivere è elemento riferito alla ragione. Nei problemi che ci assillano nella vita di tutti i giorni ci sono due componenti che vengono sommandosi, sovrapponendosi e mescolandosi, dunque il sentire e il descrivere. Se io ho un problema con un poliziotto urbano che mi mette una multa, esistono due componenti che vengono a comporsi, il mio sentire e la descrizione dei fatti per cui il poliziotto ha messo la multa. Innanzitutto, qual è il mio atteggiamento soggettivo col poliziotto? Secondo, quali sono le ragioni che mi hanno indotto a fare il gesto per cui ho preso la multa? Avevo fretta? Ero angosciato? Ho tentato di fare il furbo? La mia percezione del fare del poliziotto. Questi elementi appartengono alla mia soggettività, al mio sentire il mondo, al come mi sono costruito, alla mia capacità di estendere le ali della percezione o alla mia incapacità di sentire il mondo, alla mia indifferenza nei confronti del mondo, alla mia arroganza. Esiste un sentire che mi appartiene al di là che questo sia frutto della mia costruzione dilatandomi nell'oggettività o che sia frutto della mia implosione dal momento che mi ritengo creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone e in diritto di fare quello che voglio o quasi. Vi ricordate? Lei non sa chi sono io. Era una delle frasi più ricorrenti di qualche anno fa e significava più o meno. Io sono l'unto del Signore, padrone del cielo della terra e tu mi vedrai scendere dalle nuvole con grande potenza. È un sentire soggettivo che però tende ad alterare la formazione del mio giudizio e a condizionare la mia azione nel prendere quella multa. Ammettiamo pure che il poliziotto abbia delle manie per le quali dica, adesso sto inventando qualcosa, multo solo le automobili marcate innocenti. Io percependo questa sua ostilità specifica tendo ad andare in bestia facendo passare in secondo piano il motivo per cui lui mi multa. Ho parcheggiato in diritto di sosta. Due Mercedes non sono state multate mentre la mia innocenti sì. In questo caso c'è una grave mancanza da parte del poliziotto per non aver multato tutti o per non aver multato tutti contemporaneamente ma sta di fatto che la mia macchina era in diritto di sosta. Per affrontare la situazione devo dividere quelli che sono i dati oggettivi da quelli che sono i dati di natura soggettiva cioè del sentire. I dati oggettivi dicono che primo io avevo fretta e ho lasciato la macchina in diritto di sosta. Secondo il vigile è passato e mi ha dato la multa. Dunque io sapevo che là c'era il divieto di sosta. Se lo sapevo ho fatto il furbo e quella volta mi è andata male. Se non lo sapevo ho imparato che là c'è il divieto di sosta e non lo sapevo o non me ne ero accorto. Allora io faccio un elenco di tutte le cose che intercorrono nel fatto di aver preso la multa. Divido le cose del sentire dai dati oggettivi. Divido l'intento percepito dall'intento descritto ed agisco in merito. Qual è il mio intento? Quello di non prendere più la multa per divieto di sosta in quel luogo? Benissimo. Mi organizzo affinché questo non accada più. Oppure qual è il mio intento? Quello che comunque là la dovevo lasciare in quanto quello che dovevo fare era troppo importante? Beh, allora pago la multa. Qual era il mio intento? Quello di fargli da pagare il poliziotto idiota che usa le leggi a modo suo o che assume un atteggiamento arrogante? Beh, se voglio far questo devo organizzarmi per questo fine. Davanti ad un problema della vita di tutti i giorni è necessario imparare a fare un elenco delle cose che intercorrono a provocare la presenza di quel problema. Occorre fare un elenco degli elementi del proprio sentire e di quello che si immagina sia il sentire del proprio interlocutore o delle cose che intercorrono nella formazione del problema. Dopodiché si fa un elenco degli intenti presunti e reali di ogni elemento che intercorre nella formazione del problema e dei nostri intenti nell'affrontare quel problema. Dopodiché si comincia a dividere gli elementi soggettivi dagli elementi oggettivi. Si divide l'interazione della nostra soggettività con i dati oggettivi che compongono il problema. Si stabiliscono gli intenti del nostro sentire per risolvere quel problema. Quando si è fatto tutto questo si affronta il problema e lo si risolve nel modo economicamente più vantaggioso. Che significa più vantaggioso dal punto di vista affettivo? Se gli elementi erano del tipo affettivo. Sociale? Se gli elementi erano del tipo sociale. Morale? Se gli elementi erano del tipo morale? Se gli elementi erano del tipo lavorativo? Eccetera. Elencare? Mettere in ordine? La nostra ragione ha bisogno di ordine per dilatarsi. Non può essere confusionata dove elementi di percezione soggettiva concorrono a formare giudizi per affrontare dei problemi che sono di natura quotidiana. O comunque sentire deve interagire con la ragione senza prevalere ma sorreggendola. Se io percepisco che il poliziotto che mi contesta la multa è uno stronzo che si pensa a un dio davanti al quale io dovrei dire signor sì, questa percezione deve sorreggere la ragione nell'affrontare la situazione aiutandola ad articolare al meglio quanto sto facendo. La percezione non deve prevalere sul ragionamento logico e sul corretto modo di pormi, magari portando il poliziotto a commettere delle stupidaggini che mi consentono di ritorcerli contro il suo comportamento idiota. Se io percepisco questo modo di essere nel poliziotto non posso tirargli un pugno, anche se dal punto di vista etico, morale e costituzionale questo lo meriterebbe. Nell'azione del mondo quotidiano il sentire deve supportare la ragione e non prevaricarla. Questo controllo fra sentire e descrizione lo ottengo attraverso l'elencazione degli elementi che intercorrono a formare un problema. Se qualcuno vuole incominciare questa pratica prenda un solo problema di una certa importanza ma non vitale e vi lavori sopra facendo un vero e proprio elenco, cose che intercorrono, sensazioni, elementi coinvolti, origini, fasi di sviluppo eccetera. È importante che la scelta accada su un problema abbastanza importante da imporre il proprio coinvolgimento ma non fondamentale nella vita in quanto inizialmente la soluzione di quel problema attraverso le elencazioni a dei tempi relativamente lunghi e serve per imparare ad usare la tecnica. Quando si impara ad usare una tecnica è bene continuare a fare quello e come si faceva prima e introdurre quella tecnica nuova di comportamento un po' alla volta in modo da non alterare eccessivamente il proprio modo di vivere. Introdurre una tecnica nuova nella costruzione della propria esistenza implica la costruzione di una parte di se stessi, un nuovo modo di guardare il mondo, la formazione di nuovi collegamenti sinapsici, l'attivazione di centri diversi di energia vitale dentro di noi. Le cose vanno fatte gradualmente in quanto noi ci dobbiamo trasformare. L'elencazione serve a costruire un agguato al nostro modo di comportarci e di essere nella vita di tutti i giorni. L'elencazione permette di mettere ordine nella ragione e disciplinare il suo controllo sul sentire. L'elencazione permette al sentire di interagire con la descrizione senza dover affrontare una situazione caotica nella quale è costretto a farsi largo a fatica provocando grandi problemi all'individuo. Nell'elencazione è importante anche la presenza delle sensazioni e la ricerca della formazione delle loro origini. È importante in quanto l'elencazione non è un elemento neutro, ma è un fare che porta l'individuo ad operare in quella direzione. Quando un individuo pratica l'elencazione escludendo il proprio sentire, giunge a negare l'esistenza del sentire e di ogni altra cosa fuori dell'elencazione. L'elencazione va bene quando si deve affrontare la vita del quotidiano della ragione per costruirci ad affrontare il quotidiano per quello che è descritto, ma non va bene quando nega la percezione e il sentire come elementi propri dell'individuo. Per questo comunque interverrà il sognare ad equilibrare le cose. La tecnica dell'aguato attraverso l'elencazione serve sia per catturare tutti gli elementi che intercorrono nella formazione del giudizio dell'individuo, sia per far interagire il crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo sul piano della ragione. Questo quando la relazione è fra esseri umani e anche fra esseri della natura. Il crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo si deve fondere anche sul piano della ragione. La nascita e la morte sono la trasformazione dei campi energetici dell'individuo, i suoi corpi luminosi, ma questo negli esseri della natura avviene attraverso i corpi fisici e gli strumenti attraverso i quali la specie a cui apparteniamo ha costruito il proprio divenuto. Non siamo noi a esaltare il corpo luminoso a discapito del corpo fisico. L'uno e l'altro interagiscono per supportare la coscienza di sé e le trasformazioni dell'individuo nell'infinito dei mutamenti. Dal momento che la nostra specie si è data a questa organizzazione sociale, in questa organizzazione sociale, noi dobbiamo costruire la nostra esistenza. Miglioriamola, questa organizzazione sociale, ma non facciamo finta che non esista, nascondendo la faccia dell'impostura di un eremitaggio o di un chiamarci fuori dagli affanni del mondo. Gli affanni del mondo costruiscono noi stessi e le capacità della nostra ragione servono per affrontare le contraddizioni quotidiane. Usiamo l'elencazione per far sì che la ragione trovi il piacere di dilatarsi e costruirsi, anziché ammalarsi della tensione del compiacimento di esercitare la propria dittatura sull'individuo cui appartiene. Dunque, questo è il concetto di elencazione, un concetto di elencazione che andrebbe fatto all'inizio dell'arte dell'agguato. Invece, il primo capitolo dell'arte dell'agguato, se ricorderete, abbiamo parlato della relazione fra la tigre e il cervo come articolazione dell'agguato. Il secondo capitolo dell'arte dell'agguato, abbiamo parlato invece dell'arte dell'agguato nei quattro canti del mondo, dove non si è solo cacciatori, si è anche prede. Essere prede e cacciatori, tutto sommato, è la stessa cosa. Entrambi hanno bisogno di articolare l'agguato. Nel terzo capitolo dell'arte dell'agguato, invece, abbiamo parlato dell'elencazione, cioè come tirarci fuori dalla situazione in cui siamo e mettere ordine nella ragione. Perché questo? Ah, sei bellissimo, Nico. Se fossi una donna direi che sei perfetto. Sì. Auguri. Sì, sì, sembrerebbe di sì. No, ancora non li hanno messi su fisicamente, però hanno cambiato le linee per il momento. Vi ricordo sempre che i numeri telefonici sono due adesso, 700-700 e 700-838. Voi potete telefonare in Radio Gamma, Radio Gamma 5, la più grande radio del Veneto, ricordatevelo sempre, con 700-700 o 700-838. Assistito dal signor Nico, il signor Nico è il grande supporter della cooperativa Radio Gamma 5. Senza il signor Nico, Radio Gamma 5 probabilmente avrebbe delle difficoltà psicologiche, più che non fisiche. E il signor Nico è sempre pronto a supportare chiunque. E con gli occhiali neri sembra anche più pimpante degli altri giorni. Ciao Nico. Allora, vi ricordo sempre il numero di telefono 700-700 e 700-838. Perché abbiamo parlato dell'elencazione della ragione per articolare l'agguato. Perché a volte noi nella vita siamo tentati sempre a mescolare il nostro sentire e la nostra percezione con il nostro giudizio. Anziché pensare agli elementi che formano il nostro giudizio per affrontare un problema, mettiamo il nostro istinto, la nostra percezione, il nostro sentire e facciamo un casino normalmente notevole. Praticamente come se la nostra ragione fosse tutta spapparazzata, tutta spappolata. E noi non siamo in grado di concentrare noi stessi come un cuneo, come una punta di freccia per affrontare il problema, trapassarlo e risolverlo. Allora, è necessario dividere la ragione dal sentire. Questo permette di mettere ordine nella ragione. Castaneda direbbe mettere ordine nell'isola del Tonale. Bene, quando un individuo riesce a mettere ordine nella ragione, riesce ad ampliare la ragione, cioè può acquisire nella ragione gli elementi della percezione, cioè può sommare alla ragione il proprio sentire. Questo è importantissimo. È importantissimo perché si può mettere ordine nella ragione, cioè nel Tonale come direbbe Castaneda, soltanto attraverso l'arte dell'agguato. Perché i nostri casini, la nostra sommatoria fra descrizione e percezione è un agguato nero, cioè un agguato della magia nera che non ha fatto altro che confondere il nostro fare, mescolando la ragione con la percezione. Bene, facendo questo ci ha impossibilità, ci ha messo nei casini nell'affrontare il mondo. Cioè il mondo non affrontiamo più per le cose che si presentano, per gli elementi che si presentano, ma lo affrontiamo come noi immaginiamo che questi elementi siano, per cui sommiamo l'immaginazione alla realtà. E questo manda in casino tutto. Allora è necessario per costruire l'agguato dividere le due cose. Cioè dividere quelli che sono dati oggettivi della ragione, la descrizione, dal sentire. E questo ci porta la terza parte dell'arte dell'agguato. Nella prossima trasmissione del crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo, abbiamo la meditazione. Cioè il nostro concetto di meditazione inserito nel crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo. Allora io vi do un annuncio. Io ho quasi finito di scrivere, mi manca l'ultimo argomento che l'ho già comunque incominciato, è il crogiolo del male. Il crogiolo del male, vi ricordo, è incominciato per caso, cioè grazie alle solicitazioni di una speaker di radiogamma. E praticamente il crogiolo del male è arrivato a quasi 400.000 caratteri. Praticamente è un vero e proprio libro, già da solo, che insieme al crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo e il crogiolo dello stregone diventa già un volume notevole, cioè un volume piuttosto consistente. Nel crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo mi manca ancora un 4-5 argomenti, fra cui il più lungo e il più duro di tutti, che è il sognare. E dopo di che avrò finito anche quello. Dopo, a fin fine, correggerò, confezionerò e lo diffonderemo come un vero e proprio libro, un altro contributo allo sviluppo del paganesimo. E naturalmente il radiogamma ha avuto, questo è stato anche grazie al radiogamma, cioè il radiogamma ha permesso settimana per settimana di sviluppare questo discorso. Finito questo, ricordando sempre il numero di telefono, andremo avanti con invece la segna stampa più immediata, perché siccome ho accumulato parecchia la segna stampa, faccio la segna stampa più immediata. Da Corriere della Sera, 11 luglio 1998, abbiamo Vaticano, Giordano Bruno resta eretico. Non avevo nessun dubbio su questo. Che Giordano Bruno avesse una visione della vita completamente diversa da quella dei cattolici, da quella del cattolicesimo, non avevo dubbi. E mi sarei sentito offeso se la Chiesa Cattolica avesse affermato il contrario, cioè non lo può assolutamente affermare. Quello che non va è, prima di tutto, che l'abbia torturato per sette anni, che gli abbia strappato lingue, strappato arti, eccetera, tanto per divertirsi i cardinali. Quello che non va è che devono essere condannati i cardinali, il Papa che lo ha fatto, deve essere condannato il macellaio di Sodoma e Gomorra, che ha dato l'autorizzazione dottrinale per farlo, e deve essere condannato il pazzo di Nazareth. Questi devono essere condannati per l'assassinio di Bruno e di tutti i milioni di altre persone che cercavano la libertà. Per cui che Bruno fosse un eretico dal punto di vista della Chiesa Cattolica non avevo dubbi, né mi interessava mai mettere in discussione questa cosa, non mi frega niente. Quello che deve essere condannati è chi ha ammazzato Bruno e tutti gli altri milioni di persone. Questi vanno condannati, non una riabilitazione dottrinale di Bruno. Bruno è uno che cercava il Dio nella natura, il divino nella natura, è uno che cercava il Dio dentro se stesso, e cercava il sistema per far coincidere, per far camminare insieme il Dio dentro se stesso e la natura in quanto Dio o le coscienze della natura. Per cui chiaramente era dal punto di vista cattolico un eretico, quello che la Chiesa Cattolica non si poteva permettere di farlo era di bruciarlo, di torturarlo, di arrestarlo, e vanno condannati tutti quelli che hanno partecipato a questo, tutti i mandanti, vanno condannati il Papa, va condannato il macellaio di Sodoma e Gomorra come mandante, e va condannato il pazzo di Nazareth, come descritto nei vageri ufficiali. Questo non c'è assolutamente niente da dire. Dalla nuova... ...la nuova del 10.07... ...nuova Venezia, del 10.07.1998, Bello di Notte con Parroco in Agenda. Beh, qui è sempre il comportamento diverso che c'è fra il paganesimo, fra un pagano e un cristiano. Cioè, un cristiano è disposto a dire cazzate, a spandere menzogne, dicendo che la castità è un principio, è un valore che bisogna rispettare, e dopodiché farsi i fatti suoi, no? Cioè, usa la menzogna per gli altri, dopodiché cerca dei sistemi per ovviare, sistemi furbetti, furbi, astuti, sviscidi, squallidi, scorretti, porci, da farabutto, per riuscire a soddisfare quelli che sono i suoi bisogni reali. Un pagano invece non fa questo, se lo fa sono fare i suoi, però la dottrina pagana non porta a fare questo. Cioè, nel senso che, se io dico, siccome a me il sesso piace, dico, il sesso è un diritto. Cioè, l'educazione sessuale, la vita sessuale, una vita sessuale libera, una vita sessuale che non dia problemi, che non serva per fare bestiame da vendere sui mercati della prostituzione, ma una vita sessuale sana, è un diritto, è una cosa seria, è una cosa logica, è una cosa che deve diventare un valore sociale, deve diventare una cosa importante nel sistema sociale. Cioè, nessuno può condannare il sesso, nessuno può costruire delle situazioni fobiche sul sesso. E questa libertà sessuale deve essere una libertà che è per tutti, per qualsiasi tendenza sessuale, pur che non ci sia la violenza. Per cui, un principio, deve essere un principio sociale, deve essere un principio di giustizia. Non devo fare dei reati o fare delle cose per soddisfare i miei bisogni. Cioè, questo è da vermi, e questo comportamento dei vermi è un comportamento da cristiani. Cioè, fa parte della dottrina cristiana. Stupra i bambini, purché non si sappia in giro, dice la Chiesa Cattolica. Dopo vedremo un attimino. Geova, dal gazzettino 10,798, l'ho trovato anche in altre parti, ma ho tenuto solo questo. Protesta contro le tasse. I testimoni di Geova francesi si appena al presidente e al presidente Chirac contro il fisco francese per il triennio 1993-1996 ha accertato evasioni delle tasse per 90 miliardi di lire. Allora, le tasse vanno pagate. Non ci sono cavoli. Esistiamo in un sistema sociale. Un sistema sociale che ha nei suoi equilibri, nei suoi modi di essere, il fatto di pagare le tasse in un certo modo e in una certa proporzione. Le tasse vanno pagate. Punto e basta. L'offerta dei fedebili dice che non sono tassabili in base a una legge del 1905. Quello è un altro discorso. Il fatto che un'offerta dei fedebili non sia tassabile purtroppo deve essere riconosciuta dallo Stato. Lo Stato deve riconoscerti un certo status per cui tu non devi pagare le tasse. I cattolici possono non pagare le tasse perché lo Stato li riconosce delle... Io non sono d'accordo su quello che lo Stato li riconosce però sta di fatto che questo avviene. Lo Stato non riconosce ai pagani lo stesso diritto che riconosce ai cattolici per cui i pagani devono pagare se avessero delle donazioni evitiamo di averle se dovessero avere delle donazioni dovrebbero pagarci le tasse sopra. E queste sono le regole purtroppo queste regole. A me non sta bene i privilegi che hanno i cattolici i privilegi dei cattolici vanno levati via perché servono solo per stuprare i bambini servono solo per costruire orrore servono solo per aiutare qualcuno a distruggere il sistema sociale ricordatevi che i cattolici vogliono distruggere il sistema sanitario per avere le cliniche private i cattolici vogliono distruggere la scuola pubblica per finanziare le scuole private o meglio vogliono finanziare le scuole private come propedeutica alla distruzione della scuola pubblica cioè loro vogliono separarsi dal contesto sociale loro sono una setta sociale non sono il sistema in cui viviamo attenzione dalla repubblica 11 luglio 1997 unioni gay l'anatema del vescovo il vescovo si fa che cazzarci i suoi questo qua sarebbe è il parere d'arcivescovo di Pisa Monsignore Sandro Plotti lui si fa che cazzarci i suoi lui queste cose gli dica i cattolici lui non le può imporre al sistema sociale il sistema sociale ha il diritto di avere tutta una serie di comportamenti tutta una serie di legalizzazioni diverse i suoi non sono delle opinioni nella misura in cui lui le fa da cattolico sono delle delle vere e proprie intimidazioni sociali e questo è la cosa grave perché? perché esiste un esercito perché mentre in Cina per esempio le religioni possono essere professate soltanto nei luoghi di culto per cui in quei luoghi di culto si può esprimere quello che si vuole e non si è perseguitati fuori dai luoghi di culto è un reato in Italia invece il cattolicesimo può essere diffuso cioè il cattolicesimo come dottrina può essere diffuso anche fuori dai luoghi di culto però sta di fatto che non è del cattolicesimo che si parla ma dell'imposizione di principi cattolici e non cattolici è questo che è una cosa aberrante dal punto di vista morale e dal punto di vista costituzionale cioè questo che rende queste affermazioni delituose in se stesse delituose non tanto dal punto di vista giuridico quello che si arrangiano i magistrati ma delituose dal punto di vista etico dal punto di vista morale dal punto di vista della convivenza civile in pratica i cattolici vogliono colpevolizzare gli omosessuali attenzione non gli omosessuali che magari sono preti e chiede nel nascondone notte i gai sono rapporti omosessuali no quelli che sono manifesti quelli che dice io sono così quelli vogliono colpevolizzare non quelli che fanno le porcherie nascoste che nessuno sappia ricordiamoci queste cosette dal gazzettino dello 0907 1998 vediamo un attimino scusate un secondo sì il gazzettino del 9 luglio 1998 Malaysia arrestata peccatrice l'attrice del cinema Julie Dallin 44 anni è stata arrestata in Malaysia per violazione del progetto islamico che proibisce una donna non sposata di rimanere solo in una stanza con un uomo che non sia un suo parente stretto rischia due mesi di carcere beh in effetti il problema è questo quando si estendono al sistema sociale i principi religiosi i principi di una religione monoteista si va a distruggere quello che sono le persone in realtà sia islamici che cattolici hanno la fobia sessuale nel cervello cioè loro sono malati di sesso ma veramente malati da ricovero ospedaliero cioè da manicomio però loro pretendono che questa loro malattia mentale questa loro aberrazione questa loro fobia di estenderla all'intera struttura sociale e che tutti gli altri siano malati nello stesso modo e questo è il non senso di questa gente e questa gente sono disposte a uccidere massacrare torturare chiunque chiunque non si può difendere e chiede libertà ricordate quando firmate dal gazzettino dell'8 luglio 1998 i cattolici locali fin dall'800 in prima fila contro gli ebrei allora questa è una cazzata i cattolici sono in prima fila contro gli ebrei dal 400 da Gala Placida da Onorio da Teodosio da allora sono sempre stati in prima fila contro gli ebrei tanto per essere chiari questo rigurgito moderno è fatto da un libro dove dove un prete un prete abbate Bailo praticamente da uno studio di un certo piazza che ha puntato l'indice con alcuni personaggi molto in vista al mondo cattolico trevigiano a cominciare dall'abbate Bailo a cui si intitolano busti e musei ma ricordatevi sempre ogni cattolico che costruisce dei campi di straminio viene fatto santo ricordatevelo questo è il principio fondamentale di Voitile della Chiesa Cattolica fino a Vescovo Zinelli Piazza l'autore dell'Iberculo ha spinto la sua ricerca fino all'Ottocento a partire da due episodi specifici di intolleranza incentrati sull'iscrizione alla scuola di San Teonisto di alcuni allievi ebrei per cui erano ebrei e anche donne nel 1879 nel 1886 su cui erano intervenuti prima Monsignor Zinelli e poi l'abbate Bailo fu un'intuizione racconta l'estensore del libro a guidarmi sulle tracce dell'abbate docente enciclopedista e pubblicista di sentimenti risorgimentali molto considerato a Treviso avevo letto il libro di ricordi dell'avvocato ebreo fascista Bruno Latters un altro bel personaggio che era stato suo allievo e lo descriveva come un personaggio guerrafondaio e violento pensai che ci fosse lui dietro i fatti di San Teonisto e una lunga ricerca confermò la mia intuizione in due lunghi articoli sulla gazzetta di Treviso del 6 del 7 del 7 8 dicembre 1886 Bailo aveva gettato infatti le basi ideologiche dell'antisemitismo cattolico con un argomento molto sofisticato che apparentemente non tradiva l'impostazione razzista in pratica questo enciclopedista che a Treviso gli fanno i monumenti non sarebbe altro che un nazista cioè non sarebbe altro che un macellaio nazista anche lui e questo va sia per l'abate Bailo sia per il vescovo Zinelli Monsignor Zinelli o vescovo Monsignore adesso leggere chi lascio a loro pertanto ricordatevi sempre queste cose quando la chiesa cattolica fa santo fa importante una persona è perché ha massacrato chi non poteva difendersi questo è un principio fondamentale dei cattolici dal dal gazzettino dell'8 luglio 1998 solo due giovani veneti su dieci vanno regolarmente in chiesa beh effettivamente sono troppi due su dieci sono un po' troppi speriamo che diminuiscano e detto questo passiamo invece ad un argomento che mi interessa scusate un attimo solo un argomento che mi interessa molto di più ed è un mio astio che non ho quasi mai espresso e il mio astio è questo perché io ce l'ho quei verdi quel movimento verde bene ecco qualche spiegazione non posso dare adesso allarme ambientale dal gazzettino di mestre dell'8 7 1998 i frequenti abbandoni negli stadi e negli stagni dei dei forti stanno causando squilibrio all'ecosistema le responsabili provengono dalla florida e sono molto aggressive si tratta della guerra delle tartarughe diventano lunghe anche 30 cm e uccidono le specie native che stanno scomparendo allora perché io ce l'ho quei verdi perché i verdi non sono altro che dei cattolici che pretendono di essere di dire alla natura cosa la natura deve fare e come la natura deve comportarsi o come noi dobbiamo agire affinché la natura poverina non sia offesa allora questo considerare la natura come un handicappato è la cosa che più mi fa andare in bestia io ho visto una parte della coscienza dell'essere natura e vi assicuro che è di una maestrosità talmente incredibile da essere senza fiato dire a questa coscienza e a quest'essere tu poverina sai se io ti metto le tartarughe un po' voraci tu come farai è veramente di uno squallore talmente incredibile talmente assoluto che veramente mi fa andare in bestia perché questo perché l'essere natura lavora per adattamento cioè qualsiasi cosa noi esseri umani facciamo la natura si adatta si costruisce degli adattamenti per evitare questo al massimo noi possiamo soltanto distruggere noi stessi cioè l'unico pericolo che ci sia è quello di avvelenare noi e di distruggere noi stessi però se noi prendiamo le tartarughe della Florida e le mettiamo negli stagni di mestre prima di tutto non è vero che le tartarughe spariscono ma si costruiscono degli adattamenti comunque anche se le tartarughe sparissero non è assolutamente una cosa grave perché perché la natura ha costruito i suoi adattamenti dove negli adattamenti della natura ci sono anche le mani dell'essere umano che poi l'essere umano costruisca degli equilibri diversi entrare nella natura altra degli equilibri in favore di altri equilibri non significa assolutamente niente cioè non è grave l'unica cosa che è grave è per l'essere umano se scoppiassero in questo momento 600 bombe atomiche nell'atmosfera benissimo non ci sarebbero più le condizioni affinché l'essere umano continua a vivere però vi assicuro che i virus i batteri e tutti gli altri esseri che sono parte integrante dell'essere natura da qui a 600 milioni di anni 300 milioni di anni la natura si riformerebbe esattamente come adesso soltanto che non avrebbe più rompe i coglioni dell'essere umano che pensa all'essere natura come un povero miserabile a cui da soccorrere o da aiutare cioè voglio dire questo se qualcosa deve essere fatto deve essere fatto con equilibrio in funzione dei bisogni dell'essere umano ma dire che una cosa danneggia la natura e alzarsi come protettore della natura è una cosa talmente infame talmente abberrante talmente schifosa che io non ho parole questo è il motivo fondamentale per cui io e i verdi non avremmo mai niente da che spartirci naturalmente cosa fanno i verdi permettono i grandissimi inquinamenti le grandi distruzioni degli esseri umani le grandi distruzioni emozionali degli esseri umani i massacri sui posti di lavoro i massacri di vita i massacri i massacri che vengono fatti da esseri umani su esseri umani da esseri umani anche sul mondo la sua distruzione nel mondo e però invece sai magari le povere tartarughine poverine le tartarughine e non sanno che le tartarughe sono una specie che è vissuta milioni di anni che ha costruito la propria coscienza la propria consapevolezza che ha costruito se stessa e che è in grado di adattare se stessa se poi l'essere umano fa scoppiare due o trecento bombe atomiche distrugge sulla specie una delle specie che si salva probabilmente sono proprio i tartarughi per cui guardare la natura come se fosse un handicappato è una delle cose più schifose è una delle cose schifose che distrugge anche l'essere umano cioè che lontana l'essere umano da quelle che sono le cose importanti per cui lui potrebbe agire e questo per cui per me e i verdi esiste un solco che è incolmabile andiamo avanti ancora dalla repubblica del 12 luglio 1998 dalla risarcimento miliardario per i chierici violentati questo è un'esercizio